Il padre Corrado Martinez era direttore d'orchestra e musicologo, è la pronipote di Bernardo Geraci, compositore siciliano dell'Ottocento, laureata a Roma con il massimo dei voti in filosofia e pedagogia. Ha conseguito con 110 e l'O del Diploma Superiore di Giornalismo presso l'Università degli Studi di Palermo e il Diploma d'Arte Drammatica presso l'Accademia di Stato Silvio D'Amico di Roma. Ha debutato come attrice a 16 anni. Ha vinto il premio Adelaide Ristori e il premio Noce d'Oro come migliore attrice protagonista. Per Livona principessa di Borgona di W. Gomro C.Z., regia di Armando Pugliese, ha insegnato al Conservatorio Verdi di Milano. Ed attualmente è docente presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma.